Sì, è stato un po' di nuovo, è stato un po' di nuovo. E qual è la mese che vuoi dare? Qual è la mese che vuoi dare? Non so, non lo che sape, perché io non lo puse io se sape, tuve. Lo va a fare per mettere i nomi. Attra il grupsi. Attra. Pass.